E proseguiamo con la serata, chiamiamo subito il Pinocchio in carne ed ossa, l'unico Pinocchio in carne ed ossa che mai esistito nella storia e accogliamolo con un bel applauso, Andrea Balestri Buonasera, buonasera a tutti, siamo tanti, dai, di cose da dire ne abbiamo Quando torniamo qui è sempre un certo effetto, molta emozione Che effetto ti fa? Che effetto ti fa tornare qui? Anche oggi abbiamo rivisitato il borgo, sono riandato, non è la prima volta che torno qui però ogni volta che si viene qui a Farnese c'è un'area magica, un'area, non lo so, forse Farnese è proprio il paese della favola E quest'area di favola si vive, si vive con voi e si vive nei posti dove Comencini è riuscito a fare questo capolavoro Qui hai girato 20 giorni, quindi insomma ti è rimasto abbastanza impresso questo paese Alloggiavi qui, hai fatto amicizia con tante persone, oggi anche ti hanno salutato quelle persone con calorosamente Mi sento di casa, c'è un ottimo rapporto fra me e gli abitanti di Farnese Io sono molto affezionato, ma no, non lo dico per dire, come fraintendete Lo dico proprio perché sento che quando vengo qui sono ben accetto e questa cosa mi fa piacere Vi ringrazio veramente dell'affetto che mi provate, vi ringrazio davvero Benissimo, allora, e con questo applauso io direi di iniziare proprio a proiettarci in quell'atmosfera magica di 40 anni fa Con un brano eseguito dalla banda musicale Santa Cecilia di Farnese Diretta sempre dal maestro Eugenio Marchiò per gli arrangiamenti del professor Gianfranco Stefanoni Che eseguiranno il brano, il tema di Lucignolo, proprio la sigla iniziale dello sceneggiato Musica maestro 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 Musica Musica maestro 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 di persone, pertanto l'idea del libro è nata perché un mio amico Stefano Garavelli che insieme a me ha scritto il libro, il coautore del libro, il titolo è Io il Pinocchio di Comencini, aveva un sito dove tante persone, ma tante guardate, gli scrivevano facendole delle domande, per esempio dove era il posto che era stato girato, che fine aveva fatto la balena e di cos'era fatto, com'era fatto il Pinocchio e Stefano si mise in contatto con me dicendomi che c'era appunto questo interesse, queste domande su questo sito che lui aveva creato, allora insomma a lui abbiamo deciso, diciamo lì, ma perché non facciamo un librettino di una decina, venti pagine dove mettiamo le varie risposte, solo che abbiamo iniziato con 10-15 pagine, però più avanti si andava e più c'era un mucchio di informazioni, la gente ci scriveva e magari diceva Io mi ricordo che quel giorno, in quella data, poi un grandissimo appassionato, Angelo Zumbo, che purtroppo stasera non è con noi doveva esserci, ci ha fornito tantissime informazioni di questo, diciamo durante le riprese, prima e dopo anche, e allora è venuto fuori un libro, sono venute fuori diverse pagine, abbiamo riportato delle foto che la salsoscritto mi ha donato, scusate, che la San Paolo Film mi ha donato gratuitamente e ho messo anche le foto del fuoriscena, in più in questo libro ho voluto raccontare anche Andrea finito il Pinocchio, che fine ha fatto, cosa faceva nella vita normale, nella vita di tutti i giorni, se andavo a scuola, se ho iniziato a lavorare, il militare, insomma c'è scritto tutto e ecco che è venuta appunto da un semplice librettino e è venuto fuori poi un bel libro. Infatti tu racconti anche e soprattutto il dopo, quindi dopo Pinocchio e questo successo strepitoso, questo boom che tu hai avuto, dopo è proseguito con altri film e dopo hai smesso diciamo, per ragioni, quali ragioni cioè? No, dopo Pinocchio ho fatto altri, vabbè ho fatto altri tre film, ho fatto altra roba così e poi niente, ho ripreso la vita normale, ho ripreso la vita normale di un ragazzino che andava alle scuole medie tranquillamente e quindi si è concluso così diciamo, bene allora io ti inviterei ad alzarti fin vicino a me perché dobbiamo accogliere altre due persone come anticipavo prima, le due ospiti di questa serata, li accogliamo così perché facciamo una chiacchierata molto semplice, vorrei far salire sul palco Pietro Gentili che nel film se vi ricordate era quello che arresta Geppetto Manfredi, il carabiniere, il carabiniere con un grande applauso lo accogliamo, Pietro Gentili e vorrei chiamare anche sul palco Pino Moroni, rappresentanza di chi ha visto dietro le quinte a Tarquinia, facciamo un confronto farnese da Tarquinia questa sera ��, no, è che io uso di cal $ responde le quinte, almeno prima, vado la scelta rotti, io vengo dietro le quinte Prodi! Grazie. 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 Grazie.